È una manifestazione organizzata da Slow Food Emilia e Toscana perché qui siamo in una zona di frontiera, le due regioni che si incontrano e questo territorio ha un patrimonio gastronomico, alimentare importante. Il fatto che si siano unite le forze per difendere l'economia agricola del nostro appennino è una strategia molto importante.